Si concluderà domani una fra le iniziative cult del Natale Cuneese, la mostra dell'artigianato organizzata dall'LVA nel centro incontri della provincia. Un'esposizione di pregiati pezzi africani che possono essere acquistati dai visitatori per contribuire ai tanti progetti dell'associazione. Con le capacità di tanta gente, di tanti artigiani del sud. In secondo luogo questi pezzi servono a raccogliere delle offerte che poi vengono destinate all'attività dell'LVA, quindi di cooperazione e di solidarietà internazionale nei paesi del sud. Nonostante la crisi economica i cunesi non si sono tirati indietro e hanno dimostrato, come in tante altre occasioni, la loro generosità. Noi vediamo che c'è un grosso sforzo da parte di tutti, però troviamo che in provincia c'è comunque un grande senso di generosità e di solidarietà e questo ci conforta perché sicuramente donare e amare è un segno di speranza, di speranza per gli altri ma anche per noi. C'è un detto Ubuntu che dice non si è ancora arrivati finché non arrivano tutti. In questo modo la solidarietà diventa un gesto concreto di salvezza per tutti. E un grande successo l'ha avuta anche la Lotteria di Natale, nuovo progetto con il quale contributo si dona un kit per la potabilizzazione dell'acqua ad una famiglia del Kenya. Grazie allo sforzo dei nostri volontari e delle aziende della Granda abbiamo raccolto dei premi. La Lotteria, ci sono i biglietti in vendita a due euro e mezzo e la Lotteria consente di fornire dei kit di igienizzazione dell'acqua per il Corno d'Africa, per il Kenya. L'estrazione sarà al 30 di gennaio del 2012 e quindi i risultati saranno pubblici. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.lvia.it